che appassiona molto questo. Vedremo com'è andata la faccenda, prendiamo atto delle singole posizioni. Resta da parte nostra una forte critica rispetto alla posizione dei 5 Stelle a favore del regime non certo democratico di Maduro, tutto qua. Ma la questione di se ci fosse un finanziamento di questo tipo non è... Se ci fosse verificato sarebbe gravissimo, però noi siamo normalmente persone serie, aspettiamo di vedere come si chiude la faccenda. Prudenza da parte della Lega.